Uè, settimana scorsa ha letteralmente impazzato su diversi siti internet, giornali e social la notizia secondo cui su alcuni gruppi complottisti si fosse sparso il mito secondo cui Samantha Cristoforetti non esistesse, essendo in realtà una parte di una messa in scena interpretata da diverse attrici. Cosa a cui io personalmente credo, visto che da fonti certe, pare che abbia anche militato diversi anni nell'Inter, arrivando addirittura ad esserne la capitana. Scherzi a parte, scopriamo un po' meglio tutto ciò che gira attorno a questo nuovo mirabolante villain del metaverso complottista che pare stia scalando le classifiche e punti ad occupare un posto d'onore al tavolo dei malvagi dominatori dell'universo, Bill Gates e Soros. Iniziamo! Allora, cominciamo con il dire che la teoria delle diverse attrici in realtà non sia così diffusa nemmeno sui peggiori gruppi complottisti. A parer mio, la notizia era talmente stramba e succulente ad essere un po' cavalcata dai giornalisti, un po' esagerata. Però in realtà è vero che ci siano diverse dicerie e molto odio nei confronti di quella che un comune mortale conosce come Samantha Cristoforetti, astronauta e prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale, mentre un complottista base conosce come Astronsa o Stascema, la Christos Fraccelletti, Astronsamanta, la servetta del sistema, la scimmia ammaestrata o perché no, anche qualcosa di più elaborato. La bugiarda, vergognati di prendere per il culo un mondo di rincoglioniti che credono ancora alle tue menzogne, sei una venduta come Giuda, ma presto farai conti con il Signore Cristo Gesù. Quindi, sintetizzando, vattene a fanculo, Samantha. Ma perché la odiano così tanto? Scopriamolo assieme! Ma prima iscrivetevi e lasciate un mi piace o un commento! Dicevo, scopriamolo assieme! Allora, cominciamo con il dire che la teoria del Samantha non esiste. Non è che sia completamente campata per aria, di fatti. Allora, come ormai abbiamo scoperto nel video dedicato ai terrapiattisti, che potete recuperare cliccando qui sopra in descrizione o a fine video, l'universo complottista terrapiattista è convinto che ci siano dei potenti che ci vogliano impedire di conoscere ciò che c'è oltre la cupola o comunque che lo spazio non esista. E quindi, automaticamente, è impossibile che ci sia una persona in una stazione spaziale internazionale che orbita intorno alla Terra 16 volte al giorno a 350 km sopra le nostre teste. E quindi, automaticamente, Samantha deve essere per forza un'attrice. Cioè, questa nello spazio stesse pose di Sandra Bullock nel film e ha pure gli stessi indumenti, ma stanno prendendo per il sedere di brutto, credete a tutto, proprio a tutto. Già, perché non è possibile che una persona sia simpatica e decida quindi di farsi una foto in cui imita un film postandola su Twitter. Chiaramente lo fanno per prendere in giro l'umanità lobotomizzata che crede a tutto. Sono tutti attori pagati con le nostre tasse. Con le nostre tasse! Qualcuno pensi ai bambini! Hanno dimenticato il gel ai capelli! Incredibile! Ora vola solo lei! I capelli no! Sì, perché di norma lei ha i capelli così verso l'alto come Vegeta. Non è che sono semplicemente più corti rispetto ad altre foto, no. Foto da dentro la lavatrice industriale. Facina che ride. Sole. Sole triste. Bandiera dell'Italia. Circo. Clown. Gallo. Io sono convinto che tutti quelli che usino le emoticon in questo modo siano in realtà una setta segreta che si invia messaggi subliminali in codice comprensibili solo da pochi eletti. Potrebbero essere dei boomer. Ma a me sembra più plausibile la teoria della setta. Io me l'immagino che dopo aver inscenato ste minchiate si riuniscono e sentenziano. Guarda, sono più minchioni dei totani. Si sono bevuti anche questa. Sono abbastanza convinto che una capitana della Stazione Spaziale Internazionale abbia altri hobby e passioni che non sia quella di prendere per il culo tè. Ma magari sono ingenuo. Comunque, quella dell'attrice non è l'unica teoria. C'è anche qualcuno, diciamo, con un dono dell'osservazione migliore, più intenso, che si spinge oltre. Affermando che Samantha sia una rettiliana. Povera rettiliana, Balbetta. Sa di mentire, ma sa che non può fare altrimenti. La Cristoforetti che descrive la Terra dallo spazio è proprio una commedia infinita. D'altronde, oh, ci sono le prove. Cioè, quelle due frecce rosse non mentono. Anche se qualcuno è dubbioso, eh? Non sembra lei. O ha fatto il botulino agli zigomi. Quanti spunti che può dare una fotografia a 144p, eh? Comunque, diciamo che per i tecnocrati plutopotenti che controllano il mondo non è facile ingannare il cuore dei risvegliati terrappiattisti, ma ci provano in tutti i modi. Scopriamo quindi quali sono i meccanismi utilizzati da questi malvagi figuri per provare ad ingannare l'umanità. Partiamo dal classico, con la pubblicazione di video falsi e fatti al computer. Guardate questo video. Meraviglioso. Incredibile. Fatto di tante foto. Un'enorme distanza. Ma le nuvole sono immobili. Non esiste vento. Nulla si muove. Impossibile. Questo video è meravigliosamente impossibile. Ah 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 ah, sistemi globalisti. Non so come faccia la gente a non vedere. Basta osservare. I video vengono coadiuvati anche da altri meccanismi per fingere l'assenza di gravità. Alcuni che usano tecnologie molto avanzate e altri elementi base, come ad esempio la lacca per tenere su i capelli e gli aerei a gravità zero. Ma andiamo con ordine. Loro non fluttuano per assenza di gravità, in quanto la gravità non esiste, ma solo la pressione atmosferica. Ma fluttuano perché, come ha detto lei, l'ISS, aereo zero G, è un corpo in caduta che va ad annullare la gravità al suo interno. Dunque, il metodo più gettonato e cervellotico, secondo i terrapiattisti, consiste in un aereo che continua a fare su e giù in giro per i cieli per simulare l'assenza di gravità. E sapete qual è il bello? Che è un metodo che esiste ed è realizzato e pubblicizzato dalla stessa ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che quindi sarebbe così stupida da mettere a disposizione di tutti questa tecnologia segreta facendosi sgamare malamente. Cioè, sarebbero così furbi e potenti da riuscire a nascondere a tutti la vera forma della Terra, ma così stupidi da rivelare a loro il modo che usano per taroccare i video. Un'altra tecnica segreta usata dalla NASA consiste nel riempire di lacca i capelli degli astronauti, rendendoli simili ai truzzi che si presentavano a dei club su All Music una decina di anni fa. E per concludere, hanno dei cavi che li permettono di fare le acrobazie che vedi. In pratica pensano che la NASA appenda come prosciutti San Daniele e gli astronauti per manovrarli in 3D, ma nonostante tutti questi sofisticatissimi meccanismi, a loro non li si frega. Troppo strano, i capelli, la gente dietro, green screen. Le persone dietro, tutte finte, c'è il green screen, pensano che siamo dei idioti. I fili ci sono, anche se non si vedono. Ridicola, ridicoli, penosi. Soprattutto chi abbocca queste puttanate. Ma c'è chi ste puttanate non ha voglia di vederle proprio? I bastardi. Sono loro che provocano. Ma provocano chi? Ma cosa vuoi che gliene freghi a loro alla NASA di te e le trauto di Vimodrone? Un saluto a tutti gli elettrauti di Vimodrone. Oltre alla lacca della Cristo Faccelletti, così l'ho ribattezzata, gli altri povereti, tutti con i braccini corti messi uguali, che coglioni. Ma perché tendono a stare con una mano che trattiene il polso dell'altra? Segno massonico. Perché sono appese a delle imbracature che poi cancellano in post-produzione. Cioè, capite, riescono ad appendersi a qualsiasi dettaglio insignificante e ci costruiscono una storia dietro incredibile senza alcuna prova. Ma sapete qual è la cosa bella? Che se qualcuno prova a farglielo notare, non la prendono molto bene. La lunghezza dei capelli incide fermamente sulla capacità dell'assenza della forza di gravità di sollevare i capelli. All'aumentare di un centimetro dei peli, si registra la crescita esponenziale della forza centripeta. Basta fare complottisti. Lasciate parlare chi ne sa. Ma levaterai il cazzo tu e le tue vaccate per negare l'evidenza. La lunghezza dei capelli del co***o dietro è sufficiente affinché si debbano perlomeno sollevare e non rimanere pettinati perfettamente. Stupido prezzolato di mer... Sì, ma stai calmo. Stai calmo. Naturalmente non mancano gli episodi crossover. Come con le sci e chimiche. Se ci mettono a disposizione queste attività con un'applicazione nascosta, significa che qualcuno non ha interesse che siano nascoste. Qualcuno più in alto, la NASA, l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che gestiscono i satelliti. Quindi bisogna denunciare a Samantha Cristoforetti. Ha detto che lì su comanda lei. Oppure chiedere SMCGE sia l'ASI a gestire il traffico e la verifica del traffico aereo in Italia e non l'ONU. Se è l'ONU che si serve della NASA o qualcosa di simile. L'ASI deve essere italiana. No, ma devo dire che io ce la vedo bene, astro Samantha a sgasare in giro per i cieli con la stazione spaziale per irrorarle di scie chimiche. Abbiamo poi i vaccini. Perché la Cristoforetti ha avuto la malaugurata idea di prendere parte, qualche anno prima della pandemia, a uno spot sull'importanza della vaccinazione. E quindi... è un attimo che... Cristoforetti in Cina! Astronauta italiana va in Cina! Virus cinese viene in Italia. Interessante. Bisogna essere proprio meschini e avidi di denaro per prestarsi a queste cose. Viaggi spaziali, propaganda pro-vaccini tossici. Mi ha sempre fatto pena questa donna. Astro cazzo che? Non vedo tv? Ormai solo per rincoglioniti. Questa non è in tv, è sul canale YouTube del Ministero della Salute. L'eroina nazionale, molto piacea, direi stupefacente. Tu la vedi che sta fatta? Sicuro tutta normale non è. E se fosse adrenocromo? Chissà. Forse certe droghe, se le vogliamo chiamare così, servono all'elite per tenere al guinzaglio i loro sodali adepti. Potrebbe essere adrenocromo. O una super cocaina. Io li vedo tutti invecchiare improvvisamente. E male, come i tossici. Ma sì, dai, pure fattona. Adrenocromo, il famoso intruglio ottenuto dalla paura dei bambini che si bevono i rettiliani. Ma andiamola in vacca. Non vogliamo buttarci dentro pure qualcos'altro? Non so, un anato, uno Zelensky così di straforo? Piena di bamba, ho già scritto, che manca Zelensky. Vai così, ma qualcosa di nuovo? Che ne so, una bella complottata sul fatto che vogliono, che ne so, sul fatto che vogliono costringerci a mangiare gli insetti per controllarci meglio? Hanno le chiavi della tua mente. Li mangerai. E crederai di averlo deciso tu. Anche l'attrice spaziale fa propaganda agli insetti come cibo. Deliziosi insetti propagandati dalla pseudo-astronauta Samantha Cristoforetti. È da tempo che documentiamo i passi in avanti che l'agenda globalista compie rispetto all'imposizione di un cambio in seno alla cultura alimentare dei paesi occidentali. Ci costringeranno a mangiare insetti. E non c'è nulla che potremo fare per fermarli, se non costituendo un movimento che contrasti la loro follia a livello extra-parlamentare. Sin da subito. Bella, bella, questa mi piace. Bisogna innovare. Una che pubblicizza insetti e barrette ricavate dai grilli appartiene alla feccia massonica del World Economic Forum di Davos. Non sarebbe lì, altrimenti. E la pubblicità degli insetti? Che se li mangi pure lei e i suoi sponsor, altamente tossici per l'alimentazione umana e per alcune ricerche cancerogeni, noi non riusciamo a metabolizzare la chitina. No, ma infatti in Africa e in Asia sono tutti morti. Anche i veneti in realtà si sono estinti dopo che si mangiavano le schie. Ma sono tutti i tironi che fingono l'accento veneto. Sta povera crista non può manco bersi un caffè in pace perché, qualunque cosa faccia, subito la attaccano con accuse a caso. E la presa per il culo continua. Sta imbecille con quei capelli da demente e quel sorrisetto da per culo. Ma vi rendete conto a cosa credete? E poi ci sono i merdosi spioni che mi nascondono il posto sulla testimonianza di Stanley Kubrick dove ammette che i filmati della Gnasa sono un fake. Ma andate a fanculo e vergognatevi. Pensasse a fare la madre ogni tanto e non ad andarsene sempre a zonzo per lo spazio. Antipaticissima. Statene a casa a cucinare, donna! Vuoi spiegare la fisica? A che serve? Io ancora non ho capito a che servono i video di questa qui. Non andremo in una navicella spaziale, sempre se ne esiste una. Tutti questi video su come e cosa fare, a che ci potranno mai essere utili? Ma, mistero. A che serve l'istruzione, dico io? A che serve capire le cose quando puoi passare 50 anni a zappare patate nel tuo orto? Pensa quante se ne devono inventare per tenerci sotto. Secondo me, noi siamo il loro unico pensiero, tutto il giorno. Ma godetevi la vita, padroni del mondo! Se no, così non siete padroni di niente, poracci. Basta, smettetela di controllarci! Cos'altro vi inventerete ancora! Anche nella musica c'è del marcio. Tu lo sai del complotto a 440 Hz? Bene, grazie per essere arrivati fino a qui. Se non siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi, lasciate un mi piace, un commento, condividere il video, tutte quelle cose che servono a far capire l'algoritmo di YouTube, che è un canale proprio bello da pubblicizzare, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, lasciandovi, come al solito, col messaggio che sintetizza più di ogni altro ciò che abbiamo visto oggi. Gente così ridicola non esiste in nessun'altra parte. Finiscila di far credere che sei sospesa nello spazio. Sei dentro un set cinematografico, quello che fu costruito per far credere che si era sbarcati sulla Luna. Grazie.